PNRR, agricoltura, ma anche infrastrutture e sanità. Sono stati diversi temi toccati durante l'incontro tra i sindaci della provincia di Pavia e il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Cava Manara. L'evento, organizzato dall'associazione Padus e Ticinum, ha visto la partecipazione di diversi amministratori locali del centro-destra. Un confronto diretto hanno spiegato gli organizzatori per rafforzare la collaborazione tra la giunta regionale e chi amministra i piccoli centri. L'associazione Padus e Ticinum ha voluto incontrare il presidente Fontana con alcuni amministratori locali e abbiamo dato vita a questo evento che si è svolto a Cava Manara, per questo ringraziamo l'amministrazione di Cava Manara che ci ha ospitati. È stata una bellissima mattinata nella quale abbiamo sviscerato alcune tematiche locali e il presidente è stato molto disponibile. Si sono trovati diversi punti di incontro e abbiamo dato diversi spunti che speriamo la regione possa accogliere per sviluppare in futuro un'azione che sia molto più capillare nei confronti dei bisogni della provincia di Pavia. Questo è stato il primo di una serie di eventi che la nostra associazione vuole organizzare per riuscire a dare delle risposte ad alcuni bisogni che affliggono questa variopinta identità culturale che è la provincia di Pavia. Grazie. Grazie.